La NATO raddoppia le forze contro l'escalation militare russa a este e a sud dei confini dell'Alleanza Atlantica. I ministri della difesa hanno dato l'approvazione finale al rafforzamento delle forze di intervento rapido che raddoppiano, avendo ora a disposizione 40.000 soldati e una brigata dispiegabile in 48 ore. L'escalation militare della Russia in Siria desta serie preoccupazioni. Chiedo alla Russia di svolgere un ruolo costruttivo nella lotta contro l'ISIL. Ma la condotta russa e il supporto al regime di Assad non sono d'aiuto. Stoltenberg non crede alla versione dell'incidente fornita da Mosca in merito alle recenti violazioni dello spazio aereo turco e parla di un aumento dell'incertezza anche ai confini sud dell'Alleanza Atlantica. Le recenti violazioni dello spazio aereo turco sono inaccettabili. La NATO è pronta a difendere e a proteggere tutti i suoi alleati contro qualsiasi minaccia e questo naturalmente vale anche per la Turchia. La risposta all'atteggiamento aggressivo della Russia negli ultimi mesi si traduce nel più grande rafforzamento della difesa collettiva della NATO dalla fine della guerra fredda.